Da questa mattina il professore spagnolo José Vicente Chirante Rives è cittadino onorario di Napoli. Ha diretto dal 2005 al 2010 l'Istituto Cervantes intensificandone le attività culturali e rafforzando il legame con Napoli e la sua comunità. Autore tra l'altro di numerose pubblicazioni che hanno la città al centro della sua narrazione, Chirante Rives ha sempre manifestato il suo amore per Napoli, per la sua cultura e la sua civiltà molto vicina a quella spagnola. È per questo che il sindaco a nome della città ha inteso conferirgli con una cerimonia nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino la cittadinanza onoraria. Per me è il riconoscimento più grande che potevo aspettarmi, che dà senso a tanti aspetti della mia vita perché da 25 anni dedico i miei migliori sforzi a Napoli sia con la mia scrittura, con la caseitrice, con gli eventi, con le mostre, con la direzione del Cervantes, insomma con tanti aspetti di un'unica cosa che è questa passione napoletana. Mi colpisce la sua vitalità, il suo misto di natura senza pari e di storia, di palinsesto, la condizione di palinsesto di Napoli, centro del Mediterraneo, una città senza fine nella quale trovo sempre nuovi stimoli. Uno spagnolo, il legame tra Napoli e la Spagna è profondo, è antico, è attuale, due popoli mediterranei e latini che servono con la carnalità, la passione innanima a costruire una visione diversa per l'Europa e per il Mediterraneo.